ben trovati amici di youtube ad un nuovo video tutorial firmato fabiambrosi.it questo è un mini tutorial che a partire da oggi lunedì 13 aprile 2020 prenderà spazio a partire dalle 14 qui su youtube ogni giorno dal lunedì al venerdì parleremo di argomenti rapidissimi da trattare in soli tre minuti e quest'oggi vedremo come rimuovere suoni indesiderati quando lavoriamo i nostri audio con adobe audition software che praticamente abbiamo trascurato in tutto questo tempo quindi iniziamo subito eccoci in adobe audition questo è il rumore che noi vogliamo rimuovere quest'oggi bentrovati un nuovo video tutorial sentite questo fastidiosissimo in sottofondo ed è questo il rumore che disturba e distrugge il mio speech come poterlo rimuovere per prima cosa isoliamolo quindi selezioniamo la parte d'onda che contiene solo il rumore fantastico tasto destro del mouse scegliamo la voce acquisisci profilo rumore clicchiamo e a questo punto audition sa qual è il rumore che vogliamo rimuovere deselezioniamo tutto e andiamo alla voce effetti riduzione rumore ripristino e scegliamo la voce riduzione rumore elabora vedete che qui c'è la rappresentazione del rumore che noi vogliamo andare a rimuovere senza fare nulla già così di default ascoltiamo l'anteprima il rumore è sparito bene diamo ok diamo conferma e come potete vedere il rumore non c'è più ovviamente ci sono casi in cui eliminare il rumore non è così semplice a volte può non bastare solo un click ma servono altri lavori di elaborazione del segnale li vedremo magari in tutorial un pochettino più lunghi e un pochettino più complessi di questo mini tutorial grazie per aver seguito anche questo mini tutorial firmato fabio ambrosi punto it ci vediamo al prossimo tutorial con un altro argomento vi ricordo www.fabio ambrosi punto it per maggiori informazioni iscrivetevi ed accendete le notifiche su questo canale youtube e se vi fa piacere cercatemi su facebook la pagina è sempre quella fabio ambrosi al prossimo tutorial ciao